Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale, ma prima di parlare della partita di ieri, ma soprattutto dovrò dire due cosine su quello che è successo ieri e l'altro ieri vi invito a iscrivervi al mio canale, ma soprattutto attivate la campanellina per ricevere aggiornamenti sui miei video futuri Allora, finalmente ragazzi, ieri ho visto una grande Juventus Non montiamoci la testa per questa vittoria contro i campioni d'Europa, non montiamoci la testa Perché la figura di merda è dietro l'angolo Ho visto una squadra, una squadra ragazzi, una squadra coesa, compatta Una squadra che ha avuto voglia di combattere fino alla fine Una squadra unita, lasciamo stare, che ha avuto poche occasioni Però ragazzi, con quelle poche occasioni abbiamo portato a casa il risultato Che è quello che conta, il risultato Non mi importa se la squadra ha giocato male, bene o benino Ma a me è importato il risultato e mi è importato vedere una squadra unita Una squadra coesa che finalmente hanno combattuto con la voglia di vincere e la grande squadra Chiesa ragazzi, non lo scopro di certo io, è un grandissimo giocatore Per me il signor Dybala doveva prendere esempio dal signor Federico Chiesa Invece di pensare social è stato decisivo Ma tutto sommato ha giocato bene tutta la squadra De Ligt secondo me è stato un mostro Bonucci per me è stata la sua miglior partita dopo due anni di merda Bernardeschi mi ha stupito Ragazzi, hanno giocato tutti bene, tutti bene Nulla da dire Allegri ha saputo studiare la partita in un modo giusto Lukaku ragazzi, non pervenuto, non ha fatto un cazzo Ma come il resto tutta la squadra del Chelsea non ha fatto nulla Sì, ok, grande possesso qua, la destra, la sinistra e di qua e di là Ma di concreto nada, una minga, un cazzo Sono contento e sono stati tre punti fondamentali per continuare questa crescita Io do ragione a Spacca Calcio quando lui disse Sto vedendo dei miglioramenti partita dopo partita Questi miglioramenti si stanno vedendo Ragazzi, comunque 1-0 strameritato Una Juve da grande squadra Cosa che non vedevo da due anni a questa parte Niente, sono contento Fino alla fine Forza Juventus Adesso testa al Torino Perché sarà un derby molto fondamentale E sarà anche una partita fondamentale per provare a risalire in classifica Quindi ragazzi, come sempre, fino alla fine Forza Juventus Iscrizione al canale, se volete iscrivervi e commentate nei commenti Fate quel cazzo che volete Allora In questi ultimi due giorni, ragazzi, sono stato bersagliato da parole Eccetera eccetera Io non devo dimostrare niente a nessuno Io sono io Io sono uno che se deve dire una cosa La dice Non mi vergogno Che sia giusto o che sia sbagliato Praticamente Sulla questione che ieri sono andato a fare Quella cosa che io ho combattuto Fino all'altro ieri L'ho fatto contro la mia volontà E su questo Me le sono pentito E me le pentirò in futuro Però ragazzi Quando vi obbligano Vi mettono un bivio E fanno E devi fare una scelta O il lavoro O stai a casa, ragazzi Io non posso buttare Io sono d'accordo con voi Io sono d'accordo con voi, assolutamente Io le mie idee le continuo a portare avanti Io sono un no green pass E continuerò a portare avanti Anche se ho fatto quella cosa contro la mia volontà E ieri sera Ho fatto il cinema Ieri là, al centro lì Ho fatto il cinema Ho fatto il cinema E io non mi vergogno di dirlo Io lo dico Non mi vergogno Io non sono un pagliaccio Come qualcuno ieri Ma etichettato Scrivendo un messaggio sotto il mio video O scemo di merda Io ti schiaccio come la merda Ti schiaccio Coglione Testa di cazzo Perché non me lo dici in faccia, pagliaccio? Perché non me lo dici in faccia? Eh? Perché non viene a San Giuliano milanese E me lo dici in faccia Che sono un pagliaccio? Perché sei un cagassotto di merda Sei un cagassotto di merda Sei un cagassotto Sei un pisciassotto Dimmene in faccia le cose Dimmene in faccia Che sono il pagliaccio della crew Anzi sono il pagliaccio di tutto YouTube Dimmene in faccia se hai le palle Coglione figlio di puttana Dimmene in faccia Coglione Ma quel cazzo che devi parlare? Non mi conosci? Mi dai del pagliaccio Ma che cazzo sei? Testa di minchia Testa di minchia Comunque Io non posso buttare 25 anni di duro lavoro Di duro lavoro Per starmene a casa E essere licenziato Ragazzi Ho dovuto scegliere Ma prima o poi Lo faranno tutti Prima o poi Lo faranno tutti Sono arrivato ad una scelta E me ne pentirò Per il resto della mia vita Per il resto dei miei giorni Però Mettetemi nei miei panni Io ho provato anche Per fare i tamponi Mi è stata negata dall'azienda Mi è stato negato dall'azienda I tamponi O il green pass o niente Mi è stato negato E ho dovuto scegliere E farmelo per forza Io in questo momento Sono incazzato Oggi non sono andato neanche a lavorare Perché mi fa male il braccio Non sono andato neanche a lavorare Ma mettetemi Porco dio Nei miei panni Sono stato Messo ad un bivio O lavori O te ne stai a casa Sospeso Anzi O lavori Col coso Col green pass O lavori senza E non vieni pagato E siccome io ho dei progetti Che sto portando avanti E ve lo dico adesso Sto cercando di prendermi una casa in affitto E nessuno sa niente Se non lavoro E non prendo lo stipendio Come cazzo faccio A prendermi una casa in affitto Come cazzo faccio Ho anche il progetto Di prendermi una macchina nuova Se non lavoro Come cazzo faccio Come cazzo faccio Come il video ieri sera L'altro ieri sera Che sono andato in piazza Ho fatto una diretta goliartica C'era Salvini Era una diretta goliartica E nella mia diretta Non ho detto una parola Non ho detto Grande Salvini Di qua e di là Grande Salvini Di qua e di là Io sono stato zitto Per mezz'ora E l'unica parola Che ho detto L'unica parola Che ho detto È stata Comunque sia Io voterò sempre Comunque Ed è sicuramente Il partito Di Giorgia Meloni Ho detto Ci sono queste parole Non ho detto E ho urlato Grande Salvini Si sentiva urlare La gente E dire bravo 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 Ma io Dalla mia bocca Bravo Non l'ho detto Non l'ho detto Non l'ho detto Poi ragazzi Una foto Cioè Vi scandalizzate Per una foto con Salvini Vi scandalizzate Una foto con Salvini Cioè ragazzi Ma dove cazzo Ma dove cazzo viviamo? Cioè ragazzi Cioè Vi siete meravigliati Per una foto con Salvini E da quella foto Mi sono beccato Anche sul gruppo Le peste corna Cioè ma ragazzi Cioè ma veramente Ma stiamo scherzando Per una foto con Salvini Non sono andato A mica mangiare una pizza Con Salvini È stata una foto Ragazzi È stata una foto Io ho detto ciao Abbiamo fatto la foto E poi lui sai cosa mi ha detto? Eh buona vita Mi ha detto E io gli ho risposto Buona vita anche a te Non potevo Io vi giuro Volevo insultarlo Per me Resta un tarditore Però che cazzo gli dicevo? Lo insultavo con dietro 15 carabinieri? Eh? Che mi conoscono Per i fatti che sono accaduti 3 o 4 anni fa Che sei venuto Alla locale a prendermi? Eh? Ma ragazzi Ragazzi Ma per favore Ma per favore No mi sono beccato Del pagliaccio Del coglione Del Prendi per il culo Le persone Io fortunatamente Non ho mai preso Per culo Nessuno A me è stato insegnato Mi sono stati insegnati I veri valori della vita E continuerò a rispettarli Continuerò a rispettare La gente che ho conosciuto Su Youtube Poi se la gente Non rispetta me Mi etichetta come un coglione Un falso Un raccontapalle Problemi loro Io sono sempre me stesso Dico sempre quello che penso Ho un carattere Che a volte Dico una cosa Che sia giusta Che sia sbagliato E continuerò Sempre sulla mia linea Poi chi mi apprezza bene Chi non mi apprezza Ragazzi Disiscrivetevi E andate Andate nei canali degli altri Io non piango Per la gente che si disiscrive Io sono fatto così Che vi piaccia Che non piaccia Allora ragazzi Ho detto quello che dovevo dire Adesso farò Meno Video sul calcio Perché voglio concentrarmi Sulla WWE E la AW Perché c'è tanto da parlare E domani uscirà un video Dove Andremo a leggere Tutto quello che è successo A Summer A Extreme Rule Leggeremo Tutta la card Chi ha vinto Chi è stato sconfitto Eccetera eccetera Iscrivetevi al canale Ditemi se volete Questi Video del wrestling Visto che C'è gente Che In tanti me l'avete chiesto Dove sono competenti Perché Il wrestling Lo seguo Da anni e anni fa Quando lo facevamo in Italia 1 Con Ciccio Valente E Cresri Calcati Iscrivetevi al canale Commentate nei commenti Mettete like Condividete Ragazzi Noi ci vediamo alla prossima E come sempre Fino alla fine Forza Juventus Noi ci vediamo alla prossima